Buongiorno, sono Giannicola di Gruppo Carmeli. Oggi vi farò salire con la nostra Sara su una delle nostre Fiat Tipo Station Wagon 1.6 Multijet in allestimento Lounge. Sono vetture aziendali del 2018 con una percorrenza da 15 a 30.000 km. La motorizzazione è un 1.6 di cilindrata con 120 cavalli, turbodiesel. La dotazione della vettura è molto completa, comprende i cerchi in lega da 17 pollici, i fendi nebbia, le luci diurne a led, i sensori di parcheggio al posteriore, mentre all'interno troviamo radio Uconnect da 7 pollici con CarPlay, climatizzatore automatico, computer di bordo, volante multifunzione con cruise control. L'auto è disponibile in diversi colori. Prima della consegna sarà tagliandata, lucidata e igienizzata internamente con prodotti specifici. Una delle caratteristiche principali di questa vettura è lo spazio interno, come potete vedere abbondante sia a livello di abitacolo che a livello di bagagliaio. Da sottolineare inoltre l'imbattibile rapporto qualità prezzo dell'auto. Pensate un po', questa vettura ha un prezzo di vendita a partire da 11.980 euro, oltre alle spese di passaggio. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011. I nostri consulenti saranno a tua disposizione.